che nonostante il conflitto che ci divide, la gloria del PSI fu e resterà il nostro grande patrimonio comune. Dentro il teatro Goldoni, le divisioni di cui parla Baci sono in realtà delle profonde crepe che dilaniano il partito socialista. Ma come si è creata questa spaccatura? In Russia scoppia una seconda rivoluzione. Stavolta, nell'ottobre del 1917, il potere viene preso dai bolshevichi di Lenin, che conquistano il palazzo d'inverno e purano gli uomini di Keneschi che fugge e gli alleati moderati della rivoluzione di febbraio e cambiano il nome del partito in comunista per volere di Lenin. Lenin e il partito di bolshevichi fa sformare una guerra imperialista in lotta decisiva per l'emancipazione dei lavoratori.